Sì, ma almeno metti di quello. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Però, ai 35 gradi di tarquina, è arrivato il momento di toglierla! Grazie a tutti. Grazie a tutti, un grande amico, signore e signore, innovazione per Bruno Modugno! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.